Poi ho messo usato come un picciocchetto, di ottano, ci si spettano una cosa diversa, le dalle gare con un umano. Il mare aperto è un posto quasi a piacere di difficoltà, comunque poi in tattagattas, le gare hanno picciocchetto, hanno una sensibilità di chi è fortemente differente rispetto a se un umano. E questo esistente, forse, questo aspetto proprio bello. Grazie a tutti.